Benvenuti a una nuova lezione di geometria. Oggi vorrei presentarvi tre nuove tipologie di linee che hanno qualcosa in comune. Le linee che vi presento oggi sono tutte linee spezzate, ovvero linee tracciate esclusivamente con il righello. Le linee che vi mostro oggi sono i segmenti, le linee rette e le linee semirette. Partiamo da un esempio. Il segmento è una linea che ha un punto di inizio e un punto di fine. Ecco a voi un esempio. Ogni punto viene contraddistinto da una lettera maiuscola. Questo lo chiamo C e per esempio questo punto lo chiamo M. Proviamo a disegnarne un altro. Eccolo qui. Tracciamo una linea che ha un punto di inizio e un punto di fine. Questo lo chiamo A e questo lo chiamo B. Quindi che cos'è un segmento? È una linea avente un punto di inizio e un punto di fine. La seconda tipologia di linee che vediamo oggi sono le linee rette. La linea retta è una linea speciale. È una linea che non ha né un punto di inizio né un punto di fine. In sostanza è una linea infinita. Per tracciarla dovete utilizzare questa strategia, ovvero all'inizio e alla fine della linea dovete fare dei piccoli tratteggi. Il tratteggio simboleggia il fatto che la linea continua al di là del vostro schermo, da una parte ma anche dall'altra. Non avendo un punto di inizio e un punto di fine, questa linea la chiameremo semplicemente A piccolo, con una lettera minuscola. Dovreste aver notato che da una parte ho disegnato due tratteggi, dall'altra invece ne ho disegnati tre. In realtà non è importante il numero dei tratteggi, l'importante è che ne facciate almeno due, giusto per far capire che la linea continua sia da una parte che dall'altra. Proviamo a disegnare un'altra linea retta. Eccola qui, tratteggio e la chiamo con una lettera minuscola B. Ecco a voi le rette, ovvero linee che mantengono sempre la stessa direzione e che non hanno né un inizio né una fine perché sono infinite. L'ultima tipologia di linee che vediamo oggi sono le semirette. Una linea semiretta ha qualche caratteristica appartenente ai segmenti e qualche caratteristica invece appartenente alle linee rette. Infatti, se guardiamo la parola semi, che vuol dire metà, retta. In sostanza avremo metà retta. Com'è possibile? È possibilissimo. La semiretta è una linea che ha un punto di inizio ma non un punto di fine. Ecco a voi un esempio. Il punto di inizio ovviamente lo contraddistinguiamo con una lettera grande e poi invece daremo un nome alla semiretta, cioè tutta la linea, con una piccola lettera minuscola, in questo caso B. In realtà una semiretta è anche una linea che ha un punto di fine ma non un punto di inizio. Infatti vedete che inizia con un tratteggio e poi finisce in un punto ben preciso che contraddistinguiamo ovviamente con una lettera. Quindi, ricapitolando che cos'è una semiretta, è una linea che ha o un punto di inizio o un punto di fine. Ciao a tutti!